Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Perché ci incontriamo oggi? Indovinate un po'? Tadà! È arrivato un nuovo pacchettino. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Oggi unboxing ragazze. Il pacchettino di oggi è un pacchettino che arriva dalla BB Craft. E sì, questo è un video in collaborazione. Come vedete i prodotti sono veramente pochi, sono quattro prodotti, ma sono quattro kit veramente validissimi e soprattutto di ottima qualità perché ho scelto tutti i kit e materiali in acciaio ovviamente per i miei bijoux. Andiamo a vederli tutti quanti uno per uno. Come vi avevo già accennato, anzi prima di cominciare con i prodotti, vi ricordo il codice sconto che la BB Craft ha riservato per le iscritte al mio canale. La BB Craft è un e-commerce cinese che ha tantissimi prodotti veramente validi e di ottima qualità. All'interno del loro sito trovate di tutto per quello che riguarda la creatività, sia le perline, sia il cuscito, sia la resina. Cioè veramente se andate sul sito trovate un mondo per creare uncinetti, ferri, stoffe, pelle, scrapbooking, c'è di tutto. Quindi c'è veramente da spaziare. Giù nell'info box vi metto tutti i link utili, ma sul mio canale ci sono molti video riguardanti la BB Craft. E io continuo a collaborare con loro perché veramente i materiali che mi forniscono sono di ottima qualità. E quindi diciamo che per me è un'opportunità, insomma, per avere sempre ottimi materiali. Il codice sconto per le iscritte al mio canale è gabriella5. Quindi dovrete scrivere una volta che avrete preparato il carrello, Gabriella, scritta gabriella5, ve la metto qui in sovraimpressione, per soffrire di uno sconto di 5 dollari su un acquisto minimo di 40 dollari. Altra cosa molto importante è che la BB Craft fornisce spedizioni gratuite a partire dai 25 dollari. Quindi secondo me anche questo è molto vantaggioso. Passiamo subito al dunque. Allora, questo è il primo prodotto. Se ricordate, nell'ultimo mercatino, dopo due anni, insomma, vi avevo fatto qui sul canale, c'è un vlog in cui parlo del mercatino di Natale. In questo mercatino, questo è il codice, in questo mercatino molte persone mi avevano chiesto come mai i miei orecchini a sutaccio fossero tutti con la monachella, insomma, per le persone che hanno i lobby forati. Io non avevo, ahimè, delle clip e quindi ho deciso di acquistare questo kit in cui ci sono tutte clip in acciaio in quattro varianti di colore. Come vedete c'è oro, diciamo acciaio chiaro, brunito e oro rosa. Spero che si vedano. Adesso io apro tutte le bustine e ve ne mostro uno per. Si vede ovviamente la differenza tra l'oro rosato e l'oro giallo. Il diametro non li ho presi piccolissimi perché io odio le clip piccole, insomma, le clip devono essere comode. Come vedete lascio l'impronta perché ho appena messo un po' di crema sulle mani, perché ho le mani perennamente secche e me ne torturo in verità. Quindi come vedete questi sono i due colori. Spero si veda la differenza dalla camera tra l'oro e l'oro rosa. Penso proprio di sì. E dicevo, io le scelgo abbastanza grandine perché altrimenti se sono piccine, secondo me fanno male quando sono posizionate vicino all'orecchio. E io queste ovviamente le ho pensate, adesso ovviamente non prendo degli orecchini a sutage, ma prendo questo che è albidembroideri, però le ho prese della dimensione tale da poterle applicare dietro alle creazioni sia albidembroideri che a sutage, in modo che coprano tutta quanta la parte. Quindi la mia idea è di fare questa parte lavorata e poi di mettere la parte dell'orecchino al di sotto. Vi mostro anche gli altri due colori, ovviamente. Quello brunito, sono guardate perfetti. Sono fatti veramente bene. E poi all'interno del kit ci sono anche questi gommini, che sono un valore aggiunto perché fanno sì che l'indosso di questi elementi sia ancora più comodo e non faccia male, perché questa parte si incastra in modo tale che anche la parte sul retro sia veramente comoda. Quindi questo kit è super 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 valido. Adesso ripongo e vi mostro. Quindi qui abbiamo, come dire, ovviato al primo problema del mercatino. Io in realtà ho preso, ho scelto prodotti utili che so che utilizzerò sicuramente, perché alla fine prendere prodotti a caso, sì, mi stimolano la fantasia, però comunque ho cercato di prendere prodotti mirati che mi tornino utili. Quindi questo sicuramente sarà utile, diciamo che sto a posto con tutti i colori. Altra cosa, diciamo, utile di cui nero alla ricerca è questa. Anche questo è in acciaio inossidabile, anche questo è una piccola box. Ora la apro velocemente e vi mostro. Vi faccio notare che la maggior parte dei prodotti che ho preso sono del marchio Unicraft Tail. Quindi se andate sul sito, trovate proprio il marchio sia Unicraft Tail, dove trovate i prodotti che ho preso io, come la Panda Hall e come tanti altri marchi. Quindi potete anche fare una selezione in base ai marchi. Allora, questo è un altro kit e questi sono delle coppette in acciaio. Ok. Copri cavo. Io le ho acquistate proprio per sostituire quelle in acciaio dei lacci che acquisto. o comunque per realizzare io dei lacci in pelle, in cascio, ma anche per fare, non lo so, dei bracciali torchon o delle collane torchon con le perline che abbiano questa sezione per poter chiudere il lavoro in modo pulito. Quindi questo è veramente una cosa che ho cercato ed è difficilissimo, veramente, da trovare. Quindi sono stata contentissima di averlo trovato. Non ricordo i numeri dei pezzi, penso siano un 25 pezzi, un 30, non lo so. Vediamo se c'è scritto sul... Penso siano 30 pezzi. Vi metto il link giù in modo tale che trovate facilmente il prodotto e potrete anche vedere il numero dei pezzi. Altra cosa che cercavo è questa. Questa invece è del marchio Panda All Elite. Ovviamente il pacchettino è arrivato super imballato, ma come vedete tutti i prodotti hanno le loro scatoline che sono anche facili da riporre, anche questa è una box e in questo caso si tratta invece di basi per anello. Anche queste ricercatissime, anche queste in varianti di colore. Sono basi regolabili, brunito, oro e oro rosato. Questi sono 16 pezzi, perché li ho contati al volo. Questo è l'oro rosato, che io adoro. Questo è oro giallo. E questo invece è proprio il colore acciaio, quello scuretto, brunito, rodeato, non so come vogliamo chiamarlo. Queste sono le tre varianti di colore. Come vedete sono in acciaio, sono fatti bene in modo tale che non scoloriscono, sono regolabili e sono resistenti. Così potrò realizzare anche le basi per i miei anelli, sia al sudascio che al bead embroidery. Quindi come vedete sono tutti prodotti ultra 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 utili. Adesso non so come tutorial che cosa vi farò, poi staremo a vedere, vedremo come mi ispireranno questi prodotti. Quindi questa è un'altra box e sono 16 pezzi. E poi alla fine c'è un'ultima box, che è questa sempre Unicraftel, anche questa in acciaio. Avrà anche questa velocemente. Questo è il codice prodotto. E qui ci sono queste basi regolabili per fare dei bracciali. Anche queste sono ovviamente in acciaio e sono quattro pezzi. Ci sono anche kit con una quantità maggiore. Quindi sappiate che trovate anche dei kit con 6-10 pezzi. Io ho preso questa da quattro. Così, per provare. Allora, vediamo. Vediamo nel dettaglio. Una cosa di cui non mi ero accorta sul sito erano i terminali. Sono delle basi per bracciali regolabili. Vedete, hanno questo anello in cui scorrono i due pezzi di catena. E poi al centro hanno questi anellini di congiunzione. Quindi qui al centro si potrebbe mettere un elemento al bead embroidery, al brick stitch, al sutage. Ho delle semplici, un elemento lavorato al wire con le pietre. Cioè, si può mettere di tutto. Quindi questi sono veramente deliziosi e proveremo sicuramente a fare un elemento per il bracciale. Questa è la versione argento. Come vedete, una ha il pallino, ha i terminali. Quindi è anche carino, ha un vezzo. E poi dall'altro lato, vedete, ci sono gli strass. Stessa cosa per quelli oro. Quindi sono due catene diverse. Una è un po' più spessa. Vedete? Questa è un po' più spessa. Questa è un po' più sottile. Quella più sottile... Continuo a cascarmi. Quella più sottile ha anche l'elemento centrale leggermente più sottile, penso. Mi sembra, no. Non ha l'elemento, ho detto una bugia. Ha semplicemente diversi i terminali. Quindi anche qui vedete strass bianco. E qui invece pallini bianchi. Quindi questi, regolabili, sono carinissimi. Non vedo l'ora di farci qualcosa di carino. Si può anche, per esempio, al centro mettere direttamente un cristallo, come ho preso io questo che avevo qui sul tavolo. E fare semplicemente un bracciale super facile, ma si può fare anche un elemento al brick stitch, vi ho detto, al bead embroidery, al sutage. Si può spaziare come si vuole. Quindi io anche questi li trovo super validi. Ovviamente se mi dovessi trovare poi bene e i bracciali realizzati verranno apprezzati, sicuramente me ne rifornirei. Quindi questi sono anche questi adorabili. Ripongo anche questi nelle loro bustine e confezioni. E niente ragazze. Il video unboxing è finito. Se avete suggerimenti per il tutorial da fare, cosa fareste? Scrivetemelo pure nei commenti. E come sempre ragazze, auguro a tutte buona creatività. Quindi uno, due, tre e quattro. Direi quattro prodotti super 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 validi che secondo me ogni creativa dovrebbe avere nel suo laboratorio. E niente, un bacio a tutte ragazze e come sempre buona creatività. Ci vediamo alla prossima.